I carabinieri di Santa Maria di Ricoddia hanno denunciato e stato di libertà otto persone che in concorso tra loro si sono rese responsabili di risa aggravata e lesioni personali. I militari hanno dunque identificato i partecipanti di una violenta lite tra due gruppi familiari che si è verificata in Piazza Umberto Santa Maria di Ricoddia il 19 giugno. La causa della lite sarebbe un banale battibecco tra due minorenni che stavano giocando a calcio in piazza. La madre di uno di loro è intervenuta energicamente per dividere i ragazzini. Sono così sopraggiunti anche i genitori dell'altro minorenne. Da qui ne è scaturita una vera e propria lite tra i due nuclei familiari con calcio e pugni. I carabinieri, dopo aver esaminato le immagini di videosorveglianza presenti in piazza e aver ascoltato i testimoni, sono quindi riusciti a identificare tutti i partecipanti alla rissa.